San Nilo di Ancira Domanda San Nilo di Ancira dice è impossibile che l'acqua infangata si possa chiarificare se si continua a rimestarla ed è impossibile diventare monaco senza l'esichia Ho letto che l'esichia è una pratica ascetica che per raggiungere la libertà dal peccato prevede tre stadi il fuggire gli uomini il restare in silenzio e il rimanere inquiete A che serve una vita del genere? Commento Serve se questa astrazione dagli altri e dal mondo fisico mette l'asceta in comunione con gli altri nei piani di esistenza superiore Allora l'esichia contribuisce pur nell'immobilità del corpo fisico all'evoluzione dell'umanità Allora 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 Allora